Ho partecipato al corso di più api tenuto da Marco Lorenzo Valentini, ho solo notazioni positive. È stato un corso molto interessante, tenuto con grande professionalità, che ho seguito con interesse. Per me che faccio apicoltura da dieci anni è stata una scoperta non solo degli errori, ma anche delle possibilità che potrei avere in futuro. Il tutto in un ambiente molto familiare, amichevole e estremamente istruttivo. Quindi complimenti e consiglio a tutti di farlo, profani e non. Grazie.